Ma secondo voi, quando vedete un talent, una puntata di un talent, un concorrente arriva e suona il suo pezzo, dopo che suona il suo pezzo, è bella questa cosa che adesso si fanno gli inediti, questa cosa è molto bella, anzi dovrebbero farsi programmi che consistono semplicemente nel fare dei pezzi propri dove dei musicisti vanno lì, si fanno ascoltare e si fanno scoprire dove c'è un pubblico che guarda questo programma e scopre nuovi artisti. Ma sapete quanta gente scrive canzoni? Una marea, e perché non ci sono programmi televisivi? Gli unici programmi televisivi sono i talent dove però poi devi anche fare delle cover e magari ci scappa fuori solo un inedito e su tutti i concorrenti che vanno sono pochi poi quelli che vanno a fare i pezzi loro, perché diciamo che chi scrive canzoni proprie non è che va proprio, vede di buon occhio andare lì, fare i provini per poi sentirsi dire bravo o non bravo, cioè un artista vero? Vabbè, questi sono discorsi molto più grandi di noi, forse fatti, rifatti, non è di questo che vi volevo parlare, però quando voi vedete la scena dell'artista che arriva, un artista arriva, viene ascoltato, fa il proprio pezzo, ecco il giudice è colpito e dice sei bravissimo, lì già si sta mettendo in campo un'operazione di marketing, lì già vi stanno vendendo un nuovo personaggio, un nuovo artista, ed è sacrosanto perché se no non funziona, quanti artisti ci sono? Tantissimi, quante persone scrivono le proprie canzoni? Dico questo perché è sbagliato pensare che faccio la mia bella musica, so che mi impegnerò nella mia bella musica a creare qualcosa che spacchi di originale, che cambi la storia della musica e allora poi avrò successo e potrò realizzare il mio sogno di vivere di musica, per esempio. No, cioè devi anche pensare che non è sufficiente saper scrivere, essere bravi ad avere talento, c'è tantissima gente di talento, ma non tutti quelli di talento poi ce la fanno, hanno l'esposizione mediatica del successo che meriterebbero. Solo chi, diciamo, prende consapevolezza che ci vuole qualcos'altro, ci vuole del marketing, ci vuole un sapersi vendere, diciamo sì, un sapersi vendere, è questo che è importante. E se noi non pensiamo attivamente anche a questo, ma pensiamo soltanto che io mi impegnerò nella mia canzone, nelle mie canzoni, nella mia musica ad essere, a fare qualcosa di originale, poi sarò ricompensato perché se sono bravo il successo arriverà. Ragazzi, vi svelo un segreto, c'è tantissima gente che spacca il culo, ecco, c'è tantissima gente brava, anche più brava di voi, ok? Che non farà nulla con la musica, ok? Lo so, è un discorso un po' duro, ma ve lo faccio perché è la verità, l'unico modo per farcela con la musica è iniziare a pensare attivamente anche tutto il lato di vendita, di marketing, di sapersi vendere. Il semplice anche fatto di andare a fare un provino e riuscire, diciamo, a farsi notare. Beh, quella roba lì è potente, amplifica. Ovviamente io dico, devi aver già fatto, costruito qualcosa nel tuo piccolo, ma quella roba lì poi ti espande, diciamo, la visibilità, arrivi al grande pubblico e potrebbe essere diciamo un bel trampolino di visibilità e io in questo senso lo intendo, un talent per esempio. Però è difficile perché lì poi devi essere bravo, devi arrivare lì, fare il tuo pezzo, saper sfruttare. E non è mai facile, molto spesso si viene stritolati da questi meccanismi, da questi programmi. Quindi devi avere talento, ma devi avere anche la capacità di pensare a come rendere visibile questo talento, capito? Cioè tutto nel modo di pensare, ok io sono bravo, ok lo appuriamo, però non sto lì fermo ad aspettare che siccome sono bravo qualcuno mi verrà a salvare, no! Io so che sono bravo, allora mi devo attivare, devo fare qualcosa in maniera attiva per farmi notare sempre di più. Quindi devo avere diciamo anche degli atteggiamenti rivolti in questo senso, non soltanto alla musica. Purtroppo questi discorsi con i musicisti, il sapersi vendere, il marketing non piacciono, ma ragazzi è quello che fa la differenza perché siamo tanti, siamo tantissimi e probabilmente gente in gamba non ce la farà. E quindi diciamo, io dico, capiamo questa cosa, capiamo che c'è bisogno anche di visibilità, di marketing, di vendere qualcosa, una storia. Quando il concorrente arriva dal giudice e gli racconta che è suo padre, non so che gli è successo, che porca miseria, i problemi ce li abbiamo tutti, ma questa cosa che arriva in tv, lì vi stanno vendendo una storia e fanno bene perché non è che vi possono vendere la musica, sì, la musica, quello è un musicista, c'è tutta una storia, ma alla gente piace l'immaginario e tutto quanto il pacchetto, la storia, quello che c'è dietro, la personalità di un artista. Siccome i talent alla fine confezionano poi dei prodotti, in realtà, sembra un programma, ma in realtà vi stanno confezionando qualcosa, è come se mentre lo confezionano già lo stanno vendendo, ok? Non è male come idea, no? Cioè Maria De Filippi ci ha fatto i soldi, mentre sto cercando di portare alla luce nuovi talenti, creo sto programma dove già vanno in televisione, già si ascoltano, così dopo sei mesi è pronto un prodotto da vendere, ok? Ora possiamo indignarci, possiamo dire che questo è un sistema malato oppure possiamo sfruttarlo al nostro piacimento, però ovviamente quello che voglio dire è che dobbiamo avere un pensiero attivo su una strategia per farci vedere il più possibile, ok? Perché pensare soltanto di essere bravi e di aver fatto della buona musica non basta se non siamo attivi anche dal lato, ok ma adesso come mi faccio a notare, che cosa faccio, vado lì, non vado lì, no ma lì, cioè bisogna avere la mente aperta e fare tutto e avere l'intelligenza anche di capire con chi, collaborare con chi no, però se tu hai un bel progetto, vai lì e hai comunque esperienza e magari vai per esempio ad un talent, per esempio X Factor dove adesso la gente fa i propri pezzi sempre di più, cioè diciamo che stanno capendo che comunque c'è tantissima gente che scrive delle canzoni bellissime meglio di quelle che preconfezionano nelle fabbriche delle major dove ci sono gli autori che devono fare una certa tipologia di scrittura, di canzone, quando invece poi dal basso che arrivano i cambiamenti e le rivoluzioni, quindi lo stanno capendo, cioè quando qualcuno è vero, va lì e suona la sua canzone, funziona, funziona però se comunque rimane autentico e non viene troppo secondo me, quando qualcosa funziona, uno ti arriva e ti suona un pezzo e funziona, poi non lo devi stravolgere troppo, per non essere stravolto, quel musicista che fa quella cosa, che va a fare quel provino, devi avere le palle, devi avere esperienza, è un bel casino la televisione e i talent, però sono una vetrina, cioè vanno sfruttati come una vetrina, in realtà io dico sempre se devi andare ad un talent vacci come giudice e il giudice è quello che vince, maggiormente, cioè se puoi andarci come giudice è lì che hai la migliore esposizione, perché è un programma basato sui giudici, tra l'altro. Va bene ragazzi, ho messo un sacco di roba dentro questo video, spero che vi abbia dato qualche spunto interessante, se volete commentare fatelo, magari apriamo un dibattito, commentate, se questi video vi piacciono, vi stuzzicano la mente, vi fanno pensare anche a tematiche a cui di solito non pensate, quindi li trovate utili, iscrivetevi al canale così da sostenermi, attivate la campanella così da sostenere questa mia attività. In descrizione trovate una marea di link utili per promuovervi e per studiare diversi aspetti riguardanti appunto l'emergere, diciamo così, con la musica. Grazie per aver visto il video fin qui, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!